Negli ultimi giorni di agosto Ariano si è animata grazie alla manifestazione Vicoli e Arte che ha coinvolto l'intero centro storico e la società dell'Ariano Calcio ha in qualche modo contribuito a rendere speciale l'atmosfera con un'iniziativa che ha coinvolto le famiglie che sabato sera hanno scelto il centro della città del Tricolle per trascorrere il proprio tempo libero. Presso la sede della società in via dal fritto la distribuzione di palloncini effigiati con il logo del club e di gelati per i più piccoli. Un omaggio del club per avvicinare al mondo Ariano Calcio sempre nuovi appassionati e per lanciare la campagna di fidelizzazione al club che prevede la possibilità di sottoscrivere una fidelity card grazie alla quale si può soffrire di una serie di sconti presso esercizi convenzionati. Ma l'obiettivo principale della società resta quello di coinvolgere il maggior numero di nuovi tifosi della squadra che quest'anno punterà al salto di categoria. A tal fine il club ha organizzato per domani un open day riservato ai più piccoli che potrebbero scegliere l'Ariano anche per la sua scuola calcio e iniziare un percorso di crescita in seno al club come nelle intenzioni del presidente Fabio Senape intervistato sabato sera. Le persone sono molto entusiaste e sorprese di questo store perché dobbiamo dire che forse molti neanche sono a conoscenza di questa grande realtà che è l'US Ariano che ha un suo marchio, abbiamo fatto dei gadget, un completino tutto nuovo e soprattutto le persone di Ariano che lavorano fuori, lavorano all'estero, sono molto contenti di portare nei loro paesi dove vivono i gadget dell'US Ariano, il completino e abbiamo ricevuto decine e decine di ordini che stiamo inoltrando piano piano. Speriamo che riusciamo ad avvicinare sempre più persone a questa realtà che è l'US Ariano, a breve cominceranno i campionati, il campionato di prima categoria, i campionati giovanili, stanno iniziando man mano gli allenamenti, tutte le categorie che abbiamo del settore giovanile e speriamo di portare sempre più gente a Renzulli. Grazie. Grazie. Grazie.